Battere la paganese e dare continuità allo straordinario successo casalingo contro il Lecce capolista e il Mast che animerà gli uomini di Pino Rigoli da oggi a domenica è quello che si augura nei tifosi rossazzurri chiamati questo pomeriggio a raccolta al centro sportivo di Torre del Grifo per supportare e spingere ancora più in alto la squadra nel giorno della ripresa della preparazione. Archiviata la giornata di riposo concessa dal tecnico dopo le fatiche contro la prima della classe è infatti il momento di tornare con i piedi per terra, consci che nel calcio il nemico numero uno è il facile entusiasmo per una vittoria importante e probabilmente anche inaspettata. Per la gara contro la paganese Rigoli spera di recuperare almeno Fornito e Piscitella mentre resta un grosso punto interrogativo sulle condizioni di Bastrini e Parisi. Intanto con un comunicato ufficiale la Lega Pro ha reso noto il calendario delle sfide valide per il secondo turno di Coppa Italia. Nei sedicesimi di finale in gara unica il Catania affronterà il Messina allo stadio Franco Scoglio mercoledì 2 novembre alle 14 e 30.